Il Paradisi delle Signore Nove, Anticipazioni, Matteo Portelli non esce di scena dal cast. Matteo Portelli ci sarà nel cast del Paradisi delle Signore Nove, che tornerà in onda anche nella prossima stagione televisiva 2024 fratto 2025. Sebbene nel corso dei prossimi episodi si assisterà a una sua uscita di scena assieme alla mamma, l'attore Danilo D'Agostino ha tranquillizzato i fan che chiedevano informazioni sulla sua presenza o meno nel cast della prossima stagione, svelando che sarà ancora al centro delle trame. Matteo va in America con sua madre Silvana Le anticipazioni della soap opera fino al 16 febbraio rivelano che Matteo si ritroverà tra le mani due biglietti per il viaggio a New York messi a disposizione da Umberto Guarnieri. Il commendatore gli ha concesso questo aiuto, che permetterebbe a sua madre di sottoporsi a un delicato intervento in America in grado di guarirla. Matteo non potrà rifiutare ma, seppur divorato dai sensi di colpa per il ricatto subito dal commendatore che gli ha offerto un lavoro per allontanarlo da Marcello, si appresterà a salutare i suoi familiari Maria Puglisi. Matteo Portelli non esce di scena e tornerà nel cast del Paradisi delle Signore Nove e un'uscita di scena che, tuttavia, non sarà definitiva, dato che Danilo D'Agostino ha confermato che sarà nel cast della nona stagione. Lo ha fatto sui social, rispondendo alle domande di alcuni utenti curiosi di scoprire il suo futuro all'interno della soap opera, svelando loro che ci sarà anche il prossimo anno. Matteo continuerà a tenere banco con le sue vicende personali e sentimentali dopo che, in questo ottavo capitolo, ha portato un bel po' di scompiglio in primisse nella vita di Maria, tanto da farle mettere in discussione il suo legame affettivo con Vito Lamantia a pochi mesi dalle nozze. I fan sperano nel lieto fine tra Maria e Matteo nel finale dell'ottava stagione e resta da capire come si evolverà il percorso di Matteo nel finale di questa ottava serie e quali saranno i risvolti della sua storia d'amore con Maria Puglisi. Dopo che i due sono usciti allo scoperto e si sono confessati tutto il loro amore nel corso degli episodi precedenti, non si escluda che Maria possa decidere di lasciare Vito. Una speranza che, al momento, nutrono numerosi fan della sua popera di Rai 1, pronti ad assistere al lieto fine della coppia composta da Maria e Matteo, e a un nuovo inizio per Vito che, a questo punto, si dovrebbe mettere l'anima in pace per l'addio con la stilista.